Si è parlato di gestione sostenibile delle risorse idriche durante il convegno organizzato dall'Ordine dei Geologi della Sardegna e dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche di Cagliari, nella Sala Congressi della Cittadella Universitaria di Monserrato. Un tema che assume sempre più rilevanza visto il forte impatto dei cambiamenti climatici degli ultimi decenni, che anche in Sardegna ha portato a un aumento della siccità e a una diminuzione delle risorse idriche disponibili e che necessita, ora più che mai, di nuove strategie, soluzioni concrete, innovative e sostenibili per contribuire alla tutela dell'ambiente. Abbiamo fatto un focus sulla gestione e quindi in qualche modo anche in quali possono essere le prospettive di un ulteriore miglioramento e ottimizzazione dell'uso dell'acqua nel prossimo futuro. Chiaramente come geologi noi poniamo un punto specifico legato alle acque sotterranee che oggi certamente costituiscono un ambito di sviluppo della ricerca e che laddove le acque superficiali dovessero, a causa anche degli apporti pluviometrici che di anno in anno possono variare, entrare in una riduzione e quindi mettere in fibrillazione la gestione e la distribuzione possono essere un'importante risorsa a cui eventualmente attingere per meglio ottimizzare appunto l'utilizzo della risorsa. Di fondamentale importanza il Green Deal europeo, il piano strategico avviato nel 2019 che mira a contrastare il cambiamento climatico e il surriscaldamento globale tramite l'adozione di misure specifiche e decisive e di azzerare entro il 2050 le emissioni di gas serra all'interno dell'Unione Europea. Perché oggi come oggi non possiamo più trascurare una corretta gestione dell'acqua e soprattutto visto che oggi si parla anche di decreto, si cita anche di una corretta educazione al suo uso e sicuramente questa sarà una sfida per il prossimo futuro che come comunità, gestori e comunità scientifica saremo chiamati in qualche modo a dare delle risposte.